Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale Serie TV Italia. Prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Ciao amici di Serie TV Italia! Oggi abbiamo una chicca pazzesca per tutti voi appassionati del mondo dello spettacolo. E non solo! Il generale Roberto Vannacci, recentemente al centro delle polemiche, ha deciso di aprirsi in un'intervista esclusiva con la rivista Chi, affrontando temi davvero scottanti e controversi, tra cui omosessualità e il ruolo delle donne nell'esercito. Il generale, autore del libro Il mondo al contrario, ha esposto il suo punto di vista riguardo l'omosessualità, sottolineando che non ha nulla contro gli omosessuali, ma definendoli una minoranza. Ha anche condiviso un pensiero personale, rivelando che, se sua figlia si dichiarasse gay o fluida, la supporterebbe, ma cercherebbe di indirizzarla verso l'eterosessualità. Inoltre, Vannacci ha parlato del ruolo delle donne nell'esercito, affermando che non ci sono preclusioni, purché ci sia parità di rendimento. Le dichiarazioni del generale hanno sollevato un vespaio di polemiche e critiche, ma lui rimane irremovibile e orgoglioso delle sue parole, pronte a cavalcare l'onda dell'attenzione mediatica. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di mettere un like, lasciare un commento e iscrivervi al canale Serie TV Italia per rimanere sempre aggiornati sulle notizie più interessanti del mondo dello spettacolo e delle serie TV. Un grande saluto a tutti, ci si vede al prossimo video!